Due mari. Lungo la linea dei due mari la città s'arrocca in una nuvolaglia grigio scura. I delfini a volte arrivano sino alle boe, sotto i piloni, dove il sole fa il cielo arancione. Strano, è solo un giorno senza vento scandito dall'andamento delle auto, ma un legno si è approato su una roccia sottraendosi all'approdo. Non c'è suono nel ventre del golfo, solo il coro, stridente dei gabbiani. Risale per le vie una verità, un risentimento delle case, delle strade, ma la speranza non si prende i suoi torti. Restiamo ostili con desiderio, se il vento riprende nostro tormento. Periferie I pescatori ignorano la città, trascinano sacchi di molluschi sulle spalle, succhiano gusci interi di acqua, iodio, muschi, licheni. Montano su un ponte di barche, come piccoli grilli, uomini neri. Usano limoni contro il dolore, del fegato, disinfettano il sapore. Bevono e dopo aver preso il mare corrono nelle camere da letto. Vivono come il plankton in seno, alle acque, alle donne, al veleno. Finché dura l'inganno della fame, fuori da ogni casa, si spegneranno i grandi sogni, i canti, le praterie, nel vuoto ostile delle periferie. Grazie Stefano, buonasera, benvenuto al Pietrisco Poesia. Buonasera a tutti. Allora Stefano Modeo è il nostro ospite della terza puntata del Pietrisco Poesia del 2024 e che leggerà appunto per noi questa sera dalla sua neonata seconda silloge, partire da qui, uscita per interno poesia proprio all'inizio, mi sbaglio, no, non mi sbaglio, ero di questo aprile 24, giusto? Sì, sì. Sono le prime presentazioni e quindi è un grande onore avere Stefano qui con noi. Intanto ringrazio Stefano per averci portato al Pietrisco Poesia questo suo nuovissimo volume e immagino tra le prime presentazioni e leggo appunto da Facebook che sei stato a Castelfranco Veneto, sei stato a Venezia, stasera sei qui con noi, tra qualche giorno sarai a Taranto a casa. Per cui insomma ci sono parecchi viaggi già anche appunto di presentazione e vedremo che appunto già dal titolo a partire da qui il viaggio è uno dei temi insomma che attraversa la silloge. Quindi congratulazioni e di nuovo ringraziandoti ti presento al pubblico. Di Stefano Modeo, Taranto del 1990, vive e lavora come insegnante a Treviso, ha pubblicato due raccolte di poesie, La terra del rimorso per Italic Pequod nel 2018 e partire da qui per interno poesia nel 2024. Ha curato le antologie di poesie di Raffaele Carrieri, un doppio limpido zero per interno poesia del 2023 e di Pasquale Pinto, La terra di ferro e altre poesie 1971-1992. Ecco autore del libro Conversazione, Industria e letteratura del 2023, insieme a Paolo Febbraro. Compare nel volume collettivo Poesia Contemporanea, sedicesimo quaderno italiano, Marcos e Marcos del 2023, nelle antologie Abitare la parola, Poeti nati negli anni 90, per l'Andolfi, editore del 2019, e Nei cieli della Preistoria, antologia della nuovissima poesia pugliese, Marco Saia del 2022. Fa parte della redazione del blog Universo Poesia Striscia Rossa e si occupa di poesia italiana contemporanea per la rivista di critica letteraria norvegese Krabben. Ecco, quindi di nuovo benvenuto e dico poche parole sulla mia prima, seconda lettura, diciamo così a caldo, ecco, diciamo così, quello che io ho sentito e quello che io ho apprezzato anche di questo libro. Quindi partire da qui è un libro di viaggi e viaggiatori, di spostamenti geografici, di arrivi, di partenze. È interno in poesia, e questo ci tenevo anche a dirlo, è un progetto editoriale di ampiezza internazionale con in catalogo nomi importanti di poeti classici, anche contemporanei. Facciamo degli esempi, Marina Xetaeva, Emily Dickinson, Emily Bronti, Hilda Dooletto, Cesare Pavese, per menzionare alcuni dei classici, e la più vicina a noi, Margherita Guidacci, e poi la contemporanea scozzese vivente Kathleen Jamie e altri poeti italiani viventi che sono stati anche ospiti qui al Pietrisco, tra cui Valerio Grutt, Paolo Fabrizio Iacuzzi e Francesca Serragnoli. Da non dimenticare nomi come Anna Resi e Giorgia Sensi che collaborano con Interno Poesia e che collaborano anche con noi per il Pietrisco nella sezione delle traduzioni. Quindi ci sono cose in comune, ma è anche veramente un progetto importante, per cui il libro di Stefano si colloca all'interno di questi nomi, mi sembra che sia una cosa molto bella e sicuramente da sottolineare. Stefano Modeo si aggiunge al progetto di Interno Poesia con la sua bellissima raccolta a partire da qui, un libro che personalmente ho trovato toccante, con espressione intensa ma recisa e limpida, artisticamente un grande lavoro di artigiano, di artigianato e menzionerei coltello, un'immagine che ritorna molto spesso nel suo libro, scalpello e lima e poi magari Stefano ce lo spiegherà meglio questa grande presenza dei coltelli. Ci sono molti coltelli nei tuoi testi e poi vedremo anche appunto in alcuni testi, per esempio un verso che mi ritorna in mente è quella delle vele che attraversano il mare come coltelli, ho molto colpito quel verso molto bello. e questa tematica del viaggio personalmente mi tocca perché personalmente è anche una tematica che tocca la mia vita proprio, quindi io nel libro di Stefano mi sono sentita a casa. Il libro è diviso in quattro capitoli o sezioni intitolati a sud di nessun dove, Pater, il segreto di Pulcinella e Nostalgia che poi è anche la parte, la sezione più corposa del libro, l'ultima sezione. I temi che emergono dalla lettura oltre a quello già appunto menzionato del viaggio sono molteplici ma sono ben intrecciati anche ed hanno anche, c'è una gradazione cioè a salire ma anche a guardare avanti ma allo stesso tempo a voltarsi all'indietro, no? L'ultima nostalgia. Ci sono molte poesie di ricordi, no? Di ricordi anche forse familiari, questo magari tipo la fotografia dopo la partita di calcio, anche quella è un testo che mi è piaciuto molto. I padri e il padre, quindi i padri io l'ho interpretato anche come la tradizione con riferimenti chiari almeno a Leonide di Taranto, Danzotto, Giorgio Agamben, Raffaele Carrieri, un altro tarantino, no? Di cui appunto hai curato l'antologia. Il mito con immagini da cui traspare anche un'attenzione religiosa, spirituale, in certi momenti direi anche evangelica. E lì ti chiederò una domanda specifica su un testo che mi ha molto colpita. Il mare, un'altra dimensione fluida, anche non solo come, diciamo così, viaggio geografico, ma anche viaggio nel tempo, no? Quindi è fluido tra tempo e spazio, mi è sembrato. E il mare di Ulisse appare, appare più volte, le spiagge di Ulisse, le isole di Ulisse anche, no? Dove si è fermato. E i monti, i monti visti come confini, come ostacoli, ma anche come luoghi del dolore, come per esempio nei Colli Euganei. E cito qui i primi due versi della poesia, a pagina 68, Colli Euganei hanno l'aspetto di giganti coricati da millenni, gli alberi sembrano coltelli, spilli o chiodi piantati sulle spalle. E con uno sguardo tutto proteso nell'andare avanti, nel viaggio di nomade e nomadi, ma anche un libro in cui la voce poetica non ha paura di girarsi per guardare al passato. E anche per guardare oltre allo schermo delle illusioni, degli inganni, questa è una parola che è uscita nei primi due testi qui, no? Inganno, ad una modernità in cui il mondo naturale, ma anche quello sociale e politico, sta franando, dice nella poesia itaca. E di nuovo cito, ciò che non sa, parla di Odisseo, è che il governo sta franando, non terrà una legislatura. Odisseo, il nomane, il padre, il viaggiatore per eccellenza, che si fa occhio attento e non dimentico di ciò che gli succede attorno, non si è seduto a mangiare con loro il frutto del loto. Ecco, io mi fermerai qui partendo con una domanda a cui tu potrai rispondere sia con i tuoi commenti, ma anche magari leggendoci altri testi. E quindi anche hai carta bianca, insomma tu leggi più possibile, no? Perché penso che i tuoi testi siano quelli che parleranno o la tua poesia è quella che parla più a voce alta. La domanda è questa. Quanto combaciano e quanto ti sei ritrovato nella tua voce, con la tua voce e nel tuo sguardo, con la voce e lo sguardo di Odisseo? Ok, allora innanzitutto buonasera a tutte e tutti, grazie per questo invito, grazie Rossella per questa bellissima introduzione, hai colto tutti i punti del libro, sono molto felice di essere qui. Dunque, allora, partire da qui appunto. Allora, diciamo che il libro si intitola appunto Partire da qui, dunque io comincerei proprio a parlare del significato di questo titolo, anche perché appunto il viaggio è assolutamente, come dicevi bene tu prima, Rossella, è insomma il tema del libro. Partire da qui, io gioco costantemente con questo dualismo, ovvero partire da qui dal luogo d'origine che si abbandona, ma partire da qui anche dal luogo in cui si approda, nel luogo in cui, dico sempre, si è precipitati, no? E quindi la ripartenza, in realtà, un dover costruire nuovamente la vita in un luogo nuovo. E quindi tutto il libro è percorso da questo dualismo anche tra partire, restare, e da questa continua scissione anche. Già nell'esergo tu citavi Leonida di Taranto, appunto epigrammista, in cui ho inserito questo verso, sono sepolto in mare e sulla terra. E appunto, dicevo, questa scissione è proprio perché in un certo senso sì, si va via, ma una parte di sé rimane sempre legata al luogo che si è abbandonati. E dunque, tutto il libro, dico sempre, quando si parte, si abbandona a un luogo importante, comincia la grande questione dell'identità, no? Quindi chi siamo, da dove veniamo, quali differenze portiamo rispetto al luogo in cui siamo stati accolti, no? E quindi anche per questo, in un certo senso, ci si rifà più vicini ai classici. Tu parlavi prima di, appunto, di Odisse o di Ulisse, e dunque si cerca di rintracciare nel passato, nella tradizione, la risposta, insomma, a quella ricerca costante, appunto, che ti ha messo in viaggio, quella ricerca di sé. E dunque, appunto, Ulisse è sicuramente il personaggio principale in questo senso. Però, ecco, tutta la raccolta è attraversata da numerose voci. Non c'è solo Ulisse, c'è, appunto, Pulcinella, ci sono diversi personaggi che parlano. Un po' perché mi piace pensare che l'io, in realtà, sia sempre un io plurale, no? Siamo fatti di cassetti, di ante, di persone, insomma, che incontriamo ogni giorno, che ci parlano, ci raccontano. Quindi siamo attraversati da una pluralità. E questa pluralità ho cercato di riportarla anche nel libro, perché riconduce poi a un'identità, ecco, alla ricerca poi di, ecco, a un approdo. E quindi magari in questo senso, forse, adesso leggerei una poesia in cui è presente la figura di Ulisse. Questa poesia si trova nell'ultima sezione Nostalgia, si intitola Allo specchio. Per averti con l'inganno ho lasciato crescere i capelli E una barba ispida e pungente Allo specchio ho l'aria di un Ulisse con gli occhi pieni di memorie Il mio corpo ha ossa deformate, gambe lunghe e curve Sono io, ti dico, venendoti a svegliare Mi riconosci dall'altezza il naso, l'incavo degli occhi Mi chiedi dove sono stato, perché ho abbandonato Ma se dico come o cosa, conoscerai anche i giorni in cui ho cercato Riparo dalla nebbia che è piovuta tra me e ciò che ho desiderato Per questo mi chiedi di mentire, di non approdare a nessuna verità Di conservare ogni dipendenza dalla tua memoria, dalla tua civiltà Grazie Stefano Volevo farti una domanda molto veloce Se mi consenti Complimenti per il libro Grazie All'inizio, non so se era già dentro la registrazione Mi ha colpito un personaggio che metti Tu hai detto, ce ne sono diversi ed è vero Che attraversano il libro questa idea dell'andare, del tornare Ma anche proprio del lasciare Quasi parli alle volte Sembra un viaggio che però Almeno in certi punti del libro mi è perso così Un viaggio che in realtà ha solo una direzione Che non conosce un ritorno Però lo stelle invece ci vede O forse anche tu stesso parli invece di un ritorno A me in certi punti del libro Mi sembra che questo ritorno non sia contemplato Che questo viaggio sia soprattutto un viaggio Che la terra che si lascia si porta più nel cuore Che non con l'idea o la speranza di poterla poi risalutare Ma non era quella la mia domanda Ma invece un personaggio che mi colpisce Perché c'è molto il discorso anche del mito Come diceva lei E invece la figura di Abramo Che tu metti proprio in quella sezione lì Che invece è tutt'altra storia rispetto a Ulisse Se Ulisse parte per volontà propria Abramo non parte per volontà sua Gli viene richiesto di partire La poesia è molto bella Non so se avevi intenzione di leggerla Ma volevo chiederti Ovviamente sono tantissimi gli spunti Perché hai usato Abramo Hai voluto Abramo Ma volevo sentirlo proprio dall'autore Cioè da te Sì La domanda Allora innanzitutto rispondo Rispetto alla direzione Sì probabilmente C'è questa consapevolezza Dell'impossibilità del ritorno E proprio in questo senso Subentra poi la nostalgia E anche la sezione appunto Che si intitola nostalgia Però ecco La nostalgia come la intendo io Non è mai un voler ricostruire un mondo Assolutamente diciamo cristallizzato Riproporlo così com'era Ma anzi al contrario Io credo che E soprattutto grazie alla poesia Sicuramente ci si rivolge Ci si rifà al passato Ma attraverso la poesia Quel mondo lì è chiaramente un mondo poi Di invenzione Si inventa Si crea nuovamente Attraverso il fare poesia E quindi in realtà Io cerco di ricostruire questo mondo Ma ne propongo poi uno assolutamente nuovo E quindi la nostalgia non è mai un Ecco un sentimento Diciamo conservativo Ma al contrario secondo me Costruttivo in questo senso E soprattutto mi piace fare questo ragionamento Per me che sono di una generazione A cui diciamo il futuro E' stato sottratto E quindi la capacità di immaginare il futuro E' sempre molto difficile Per la mia generazione Io a un certo punto Mi sono reso conto Che probabilmente Era interessante Voltarsi indietro Guardare nel passato E capire se Ci eravamo persi qualche pezzo E cercare di ricostruire Un percorso in questo senso Invece per quanto riguarda Ecco la figura di Abramo Rientra anche in questo discorso Non c'è in realtà Chissà quale ragionamento Mi interessava Anche questa contrapposizione Nel senso Odisseo si muove per mare Abramo si muove per terra Mi piaceva Questa contrapposizione qui E chiaramente Sono andato a riprendere Quindi un altro personaggio Che è andato appunto Alla ricerca Di una terra Alla ricerca di un luogo Alla ricerca di Di se stesso Fondamentalmente Se vuoi Insomma La leggo Questa poesia Grazie Mentre la cerchia Nella tua idea di nostalgia Che hai detto Attraverso la poesia Anche di creare un mondo Attraverso la letteratura È contemplata L'idea del dolore Perché è un'altra parola Che io sento L'idea del dolore O il dolore Assolutamente E poi nostalgia Sai che è il dolore Del ritorno Ecco Esatto Assolutamente Sì Beh Penso che Così come appunto Diceva Rossella Nell'introduzione iniziale Anche la figura Del coltello Che ritorna spesso Nelle poesie E che ha a che fare Appunto con questa Scissione Con questo Diciamo Tagliare Se vogliamo Il cordone Ombelicale Con Proprio Con l'origine Genera Necessariamente Un dolore E quindi Io sono Sono convinto Che Molto spesso La poesia Nasca Da un dolore Principalmente Diciamo Che questo dolore Per me Corrisponde Molto spesso Proprio con La mia città D'origine Taranto Che è anche Una città Molto Complessa Molto Sofferta Per le sue vicissitudini Leggo Questa poesia Abramo Abramo Scelse Di muoversi Sul lato Flubiale Tra le canne Di palude Sui terreni Argillosi Si fece Strada Tra i rami Le pietre Ammuffite Su alcuni Tronchi Vi erano Incisi Nomi Di uomini Per terra Il passaggio Di cavalli Tra i busti Grassi Dei pioppi Dove Può sparire Un esercito Il profilo Del colle Sembrò Un confine Vole Nel bosco Piantare Una tenda Ma Prima che Il fiume Svanisse Segnò le guance Con un tratto Di pece Giurrò Guerra Alla specie E si incamminò Solo Ad un guado Finale Grazie Grazie Stefano Allora Guarda Una domanda Io Adesso Per quanto Riguarda I padri E il padre Anche Perché Credo Che Allora Parto Quindi Dalla prima Perché Inutile Facci i salti Lasciami andare Questo Questo testo Che mi ha molto colpito All'inizio Soprattutto In particolare Mi ha colpito Mentre uso le mani Sulla farina Con tutto il mio peso Duomo Come preparavi tu Il pesce Mi scruta Ecco Questo mi è molto piaciuto Bellissimo Secondo me Questo peso Con tutto E con il mio peso Con tutto il mio peso Duomo Cioè Proprio Una poesia Vissuta Nella carne Cioè Non è una poesia Stratta È proprio Nell'esperienza E Credo Che anche Non lo so Adesso Se questo Si riferisse A tuo padre O si riferisse Magari a Carrieri Perché anche Carrieri Era un poeta Dell'esperienza No? Questo Ecco Mi spieghi Un po' Questo testo Che Così Molto breve Ma Così Mi ha colpito Veramente Allora Diciamo La sezione Pater Sicuramente Diciamo Ha Una radice Privata Privatissima Senza ombre di dubbio Però Ecco Anche qui Mi interessano I padri Paolo Febbraro Ha scritto Ad esempio A proposito Di questo Che Nei miei testi Ci sono sempre Padri Lontanissimi Molto Molto Lontani Anche qui Padre Pater È la stessa Radice Di patria No? Quindi Anche lì C'è una ricerca Una ricerca Appunto Che ha a che fare Con Con L'origine Io sono sempre Stato un po' Affascinato Da questa Da questa figura Anche Nel Nelle Nelle prime Poesie Ad esempio C'è Nella prima sezione C'è una poesia Intitolata Padri e figli In cui c'è Una distanza Abissale Tra Tra padri E figli Ma Una distanza Anche Proprio Generazionale Tra due mondi Assolutamente Lontani Che Non riescono Non riescono A comunicare In alcun modo E Diciamo che Questo Quest'incomunicabilità Ha a che fare Con un altro Tema Del libro Che è quello Proprio Del disorientamento Del Dello smarrimento Cioè Quando Quando si va via Quando si parte Quando Ci si mette In viaggio Qualsiasi viaggio Esso sia Si è Anche soltanto Per un attimo Si è smarriti E io credo Che appunto Anche nel Rispetto Al presente Che stiamo vivendo Siamo tutti Assolutamente Smarriti C'è un disorientamento Collettivo E quindi In questo senso Credo che Il vero poi tema Del libro Sia Sia questo C'è la possibilità Che questo disorientamento Possa parlare Poi A tutti Anche appunto Rispetto A queste figure Di padri Che probabilmente Non ci hanno Comunicato Non ci hanno Lasciato Diciamo Un mondo In cui poterci orientare Nel giusto modo Ecco E per questo Siamo Siamo tutti Un po' Disorientati Se vuoi Leggo Questa Poesia Grazie Prima che la leggi Però mi viene A dire una cosa Che il tema Del padre È un tema Molto dibattuto Anche a livello A livello sociale Sai che Infatti Possono essere i padri Come possono essere Le madri Assolutamente Sì però Sai In poesia Mi è venuto Moltissimo In mente Non so perché La figura del padre Dai poeti Viene sempre Spesso Sai Da distante Un padre Di Milo De Angeli Sono passati Tantissimi anni E molti poeti Non so anche A Pesaro Mi ricordo Spietai Pasquale Aiutami Quel poeta Che sta a Venezia Lo conoscerai benissimo Che è uscito Poi più persiglia Anche recentemente Comunque Che c'è più bellissimo Sulla morte del padre Non solo lui Comunque Trittico del distacco Pasquale di Palmo Ecco Ma poi tanti Vedo molto il discorso Dalla paternità In poesia Chiaramente Anche dalla maternità Però mi sembra Che il padre Hai spiegato molto bene L'idea della guida E anche di questo Disolentamento del mondo Tu hai 34 anni Giusto Sei nel 1990 E anche la generazione Dopo di te Potresti essere padre Non so se lo sei Ma anche Lo sei Oh che bello Che bello Guarda sono andata Non lo sapevo Vedi bisognava dire Cioè Per dire che c'è smarrimento Allora lo sperimenterai Dall'altra parte Allora Niente Vuol dire che È un tema molto forte Noi Quindi Ha toccato Un tema importante Che credo Che sia una sezione Per me È la sezione Più bella del libro Grazie Lasciami andare Mentre uso le mani Sulla farina Con tutto Il mio peso d'uomo Come preparavi tu Il pesce mi scruta Implacabile E l'acqua Ripulisce le viscere Dimmi Se può venire Una parola ancora Che sappia descrivere Il percorso Della spigola Che si caccia Sulla riva Perché se lei parla Ti prego Dice Lasciami andare Parla di prima Di tagliare Il cordone Ombelicale Che mi sembra E poi se voi Se volete leggo Anche questa poesia Padri e figli Di cui Leggene un po' Anche della sezione Così ti sentiamo Anche in lettura Poi con due donne Ti interrompono sempre Vedi Quando volete Padri e figli Le gambe aperte Sul molo Una sigaretta Tra le dita Si è conosciuto Un luogo Fuori dal limitare Delle boe Spalle alla terra Su cui corrono Le nuvole E per quel battello Che scivola Sul filo preciso Ha il sesso impotente Dicono Le donne ridendo Lo sa Ma a tutte Rivendica il seme Lo grida dal mare In città Sono tutti i miei figli Quei figli Che per le strade Desiderano Una baionetta Le scarpe L'armatura Le frecce di un arco E che sono pronti A fare la guerra Ad affratellarsi Nuove abitazioni Fatte di rocce Coralli Erosioni Né a questi padri Né ai figli Importa la loro memoria Ma vivere in eterna diffidenza Ignorandosi a vicenda Diario dell'inconscio Quando saltava sulle boe Noi sulla spiaggia Restavamo a guardare Il pesce Morire E volare Una vita A uccidere il mare All'orizzonte Minuscole vele Procedevano lente Come coltelli Quest'unica forza In una cornice Vorrei morire Sotto i tuoi colpi Perché non riesco Ad amarti Come un soldato So che qui Le parole Non corrono Come in una grande città Dal margine E' più semplice Immaginare di andarsene Leggo questa preghiera Per il figlio Proteggi lui che annega E sospendi ogni giudizio Adesso che perde ogni cosa Viaggio dopo viaggio Chi incontrerà lì fuori Se dopo ogni curva Estraneo ai mandorli Ai ciliegi Ai vigneti In una città Tanto triste Lo vedi Restare indietro In un corteo Come il fischio Di un treno Proteggi lui Che incespica E sospendi ogni giudizio Ora che guadagna Il silenzio Viaggio Dopo viaggio Grazie Grazie a voi Ecco allora vorrei Chiederti A questo punto Una cosa Sui padri Padri giganti Però Perché Io sento In alcune poesie Non in tutte No perché La tua voce È molto originale Comunque si sente Che è personale Eccetera Però I riverberi Di due poeti Grandi Io li sento In padri e figli Proprio lì Incipite Le gambe aperte Sul molo Una sigaretta Tra le dita Cesare Pavese Per me Ci sono molte poesie Che me lo ricordano No proprio Cioè quindi La voce grande Gigante Insomma Della poesia Diciamo così Non aulica Quindi prosaica Del novecento Secondo me È Cesare Pavese Quello che ha scritto Poesia in prosa In pratica Anche a volte Un po' stonata Però Però C'è Ha sfondato Su certi Su certi Diciamo così Fronti Riportando Va bene Walt Whitman Per esempio In Italia Ma anche Poetti come Rambaud Per esempio Che scrivevano In uno stile Completamente diverso Da Baudelaire E da altri Dal canone Insomma E poi Montale Allora io Quando insegnavo Mi occupavo Esattamente Di Pavese Di Montale Perché proprio Questo contraltare Dell'aulico E dell'anti Aulico Insomma Così Mi piaceva Mi piaceva molto E in particolare Allora Ci sono due poesie Uno è Nuotare Secondo me è molto Montaniana Però poi Ci direi tu A malapena Ricordi Come è fatto Il mare Nell'acqua Fisso Si specchia Il padre Luci Riflessi Sfavillano Sul suo Invecchiare Il tuo crescere Che vede Più che il finire Frantuma L'immagine Nell'acqua Smossa Un bambino Che batte i piedi Per nuotare No? Montale Era quello Degli schermi Degli specchi Dove si poteva Non lo so Vedere Un po' L'illusione No? E poi a un certo punto Questo specchio Si frantumava E si vedeva La realtà Appunto Questo Bimbo Che appunto Giocando Rompe L'immagine Nell'acqua Mi ha molto colpita Mi è molto piaciuta E mi è sembrata Anche montaliana Anche se Molto diversa Poi Va bene C'è la presenza Delle agavi Lo scirocco Insomma Quelle Ma quelle sono cose Che comunque Potrebbero essere Presenti Anche tu Essendo pugliese Assolutamente E poi Il secchio Il famoso secchio Montaliano Che finisce Con Con due versi Che secondo me Sono proprio Quasi dal Vangelo Ecco il mio secchio D'acqua Lo poggio qui Mi puoi bere Ma molto Toccata Ma molto Ha toccato Una corda Della spiritualità Anche della salvezza In un certo senso No? Cioè la poesia Che salva Anche se Non credo Che Tu O almeno Così penso Non penso Che la tua Sia una poesia Che salva È una poesia Forse in cui Ti salvi Tu Non lo so Ecco magari Spiegaci queste cose Perché ma E poi appunto Montale Pavese Sono tue letture Importanti? Oppure magari Le ho viste io Perché Le ho sempre Sognati Beh allora Innanzitutto Grazie Insomma Mi fa piacere Il fatto che Insomma Si possano ritrovare Degli autori Così importanti Però ecco Sì sicuramente Sono delle letture Che ho fatto Pavese Montale Assolutamente Non so se Insomma Le ho fatti Così Miei Tanto da Insomma Riportarli Poi Inconsciamente Sulla Carta Posso dire Però Che sicuramente Ecco Come Come dicevamo Prima Io Più che Questi autori In questi Il libro Ci ho lavorato Sette anni Insomma Per Scriverlo In questi Sette anni Qui Io ho cercato Di fare Letture Decisamente Fuori Diciamo Dal Dal Canone Così Mi piace Muovermi Nella tradizione Non ho Non ho timori Ecco Da questo Punto di Vista Di Dialogare E di Rubare Quanto più Possibile Dai Grandi Però Ecco Mi 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 Interessava Tanto Trovare Una Una Voce Che avesse A che fare Con La mia Geografia Non potevo Scrivere Secondo me Un libro Diciamo Avendo come punto Di riferimento Vittorio Sereni Per dire Per citarne uno A caso Con tutto Insomma Che è un poeta Anche che ho letto Che ho amato Ma dovevo Avevo bisogno Di Studiare Di Rifarmi A degli Autori Che In cui Potevo Riconoscere Davvero La La mia Voce Quella Quellessico A cui tu Facevi Riferimento Asciutto Insomma Privo Di Qualsiasi Tipo Di Orpello E che Andasse Dritto All'osso Delle Pose Ecco Forse Più Che Montale Forse Un autore Che Due Ecco Autori Che Che sento Molto vicini Oltre a Carrieri Pinto Appunto Tutta la Letteratura Un po' Che ha a che fare Con il Mediterraneo Sento Molto vicini Amo Tantissimo Saba Amo Tantissimo Caproni Sicuramente E forse Anche C'è Molto Caproni Se Vogliamo Nella 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 Sezione Un po' Più Bizzarra Di Questo Libro Che È Il Segreto Di Pulcinella Che È Un po' Un passo Di Lato Rispetto A Tutta La Struttura Del Libro E Lì Secondo Me C'è Un po' Questo Questo Giocare Con I Versi Con Pochi Versi Con Tanto Con La Rima Ecco Ad esempio Una Cosa Di cui Non ho Parlato La Rima Per me È Uno Strumento Molto Molto Importante Che Credo Oggi Anche Molti Poeti Della Mia Generazione Al contrario Invece Vedono Come Il Male Assoluto Secondo Me Cioè A me Interessava Giocare Con Usare La Rima Anche Sempre Per Questo Discorso Di Riprendere Qualcosa Che Avesse A Che Fare Con La Memoria E Quindi Trovare Qualcosa A cui Aggrapparsi Risalire Addirittura Una Tradizione Quasi Orale In cui Si raccontavano Delle Storie Per Cercare Insomma Di In maniera Formulare Di Ricordare Queste Storie Quindi Anche La Rima Per Me Questa Cosa L'ho Presa Soprattutto Da Carrieri E E Fondamentale In Questo Senso E Non so Se Ho Risposto Alla Tua Domanda Perché Mi Sono Perso Sì Sì Un'altra Domanda Sempre Questo Su Carrieri Leggendo Carrieri In uno Degli Ultimi Passi E Qui Volevo Chiederti Appunto Perché Tu Parli Appunto Dei Coltelli Parli Cioè Io Sento Molto Il Lavoro Cioè Tu hai Detto Che ci Messo Sette Anni A Scrivere Questo Libro Quindi C'è Sicuramente Un Lavoro Di Di Tagli E Di Lematura Grandissima E Qui Mi Pare Che Ci Sia Questo Testo A Pagina 74 Questo Il Libro Un Accenno A Proprio Alla Quasi Metatestuale Insomma Alla Scrittura No Quando Non aver Paura Di O Forse Fermati Fermati Finché Sei In Tempo Non Arrivare Alla Fine Del Verso Frena La Fuga Che Ti Tiene Desto Perdona Tutti Tranne Te Stesso Mi Sembra Un Commento Molto Verso Te Stesso Appunto Sulla Scrittura Sullo Scrivere Sull'essere Diciamo Così Quasi Crudele Con Se Stessi Quando Si Scrive No Mi 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 Frena La Fuga Non Arrivare Al Fine Del Verso Frena La Fuga Mi Sbaglio Oppure C'è Qualcosa Che Ha Che Fare Proprio Con Il Modo In Qui Tu Lavori Beh È Molto Interessante La Tua Interpretazione Sicuramente Il Lavoro Di Scrittura È Un Lavoro Molto Doloroso Senza Ombra Di Dubbio Proprio Perché Non Sai Mai Appunto Il Verso Dove Va Finire Cioè Quale Parte Di Te Porterà Alla Luce E Quindi Talvolta Quel Verso Può Essere Anche Talmente Doloroso Che Forse È Meglio Frenare Non Arrivare Alla Fine Del Verso Sì Beh La Poesia Ha Questa Grandissima Capacità No In Qui L'io Si Mette Del Tutto Completamente A Nudo All'interno All'interno Della Poesia Quindi È Qualcosa Di Estremamente Vulnerabile La Poesia Stessa E E Questa Poesia Qui In realtà Anche È Un Gioco Nel Senso Che Parte Da Una Poesia Di Carrieri Che Si Chiama Batticuore Che Mi Risuonava Nella Testa E Diciamo Un po' L'ho Sovrascritta No Quindi Rimarcando Alcuni Versi Riprendendola Ci Ho Scritto La Mia Anche Perché Questo Intendo Dire Quando Dicevo Prima Non Ho Paura Di Dialogare Con La Tradizione In Questo Senso Anzi Trovo Che Sia Assolutamente Enricchente E Meraviglioso E Quindi Sì In Questa Poesia Però C'è Il Tema Della Fuga Del Dover Perdonare Se Stessi Un po' Perché Anche Quando Si Va Via Chiaramente C'è Sempre Un po' La colpa Di Di Essere Andati Via Di Aver Tradito Se Vogliamo In un Certo In un Certo Senso E Di Aver Abbandonato I Propri Affetti Il Proprio Luogo Insomma E Quindi Ce la Si Porta Sempre Appresso Questa Colpa Per Riconoscerti E Ad Essere Riconosciuto Anche Nel Tuo Luogo D'origine Un po' Perché Insomma Quel luogo Non è più Quello In cui Tu hai Vissuto Ma Appunto È cambiato E tu Stesso Sei Cambiato E Quindi Diventi Uno Straniero In ogni Luogo E Quindi C'è Questo Tema Della Fuga Perché La Fuga È Dovuta Al Fatto Che Cerchi Costantemente Un luogo A cui Aggrapparti Ma Questo Luogo Non Lo Ritroverai Mai Più Né Dove Appunto Sei Approdato Né Appunto Tornando Indietro Magari La Leggendo Capieri Trova Il Tuo Bandolo Batticuore Dille La Tua Offesa Non Tacere Contro Questo Silenzio Che Dura Scaglia La Tua Ira Fingi Di Essere Deciso Nel Farla Finita Infine Volgi Lo Sguardo Altrove Severo Non Aver Paura Di Restare Solo Rimastica Parole Velenose Cerca La Tua Vendetta O Forse Fermati Fermati Finché Sei In Tempo Non Arrivare Alla Fine Del Verso Frena La Fuga Che Ti Tiene Desto Perdona Tutti Tranne Te Stesso Ecco Guarda E come Mia Ultima Domanda Poi Magari Apriamo Il Pubblico A meno Che Laura Non Ne Abba Altre La Sezione Che C'hai Già Detto Quella Della Diciamo Così Del Passo Di Lato Il Segreto Fucinella Che Inizia Come Ubi Fracassorium Ibi Fucitorium Fucinella Appunto Ecco Questa Via D'uscita Ce la Spieghi Ce ne Parli Un po' Di Questa Sezione Perché È Veramente Proprio Diversa Dal Resto Del Libro È Anche Molto Breve Sono Sei Poesie Credo Mi Sbaglio Sette Poesie Sono Poche Poesie Allora Sì Un Fracassorium Ibi Fuggitorium L'ho ripreso E l'ho messo lì in esergo Da un libro di Agamben Su Pulcinella Significa appunto Dove c'è una catastrofe Là c'è Una via D'uscita E E quindi È un po' questo Se vogliamo Anche il segreto Di Pulcinella Però Pulcinella Questa è Innanzitutto Vorrei dire Che è La sezione Più Enigmatica Anche per me Ma Allo stesso Tempo Credo Che sia La Sezione Più Teatrale E anche Più Politica Del Libro Pulcinella Può essere Interpretato Come figura In diversi modi Pulcinella Era appunto Un buffone Era Un Diciamo Un Un personaggio Che Come dire Prendeva in giro Oppure Si faceva amare Dal popolo Insomma Prendeva in giro I tiranni Eccetera Ma allo stesso tempo Pulcinella Può essere Anche il poeta Stesso Che Indossa una Maschera E che ha Bisogno appunto Di Dismascherarsi Per Dire la verità Per Per mostrare La sua Vera Identità Insomma In Pulcinella Ci si può Rivedere un po' Chiunque Penso Che sia un po' Il gioco Delle Maschere E magari Vi leggo Vi leggo Qualcosa Per farvi Per farvi capire Ne leggo Un paio Due Tre La maschera Anche qui Il linguaggio Spesso è Molto più Popolare Qual è il verso Nel giardino Eterno Niente può La brava gente Vivere sempre E nel dolore Dove si subiscono Torti Non c'è cambiamento Così si vuole Che i morti Sian vivi E i vivi Già morti Il buffone Si disse anche È solo un buffone Perdonatelo Vive D'invenzione È una difesa Innanzi allo specchio Ognuno teme Di vedere Se stesso Da questo Chi è capace E si scarcera Non è schiavo Di niente E si smaschera E l'ultima La verità Morti di fame Nasi di pezzenti Musi di cane E malapalabras Ruba monete Senza fede E ragione Dava persino Pietà Quel sorriso Di uomo Bambino Di corpo Diviso Ma la verità È che La povera gente Di amore E dolore Non ne sa niente Grazie Infatti mi sembra Che ci sia sempre Nella tua poesia Questo l'ho sentito Un'attenzione Verso la verità No Verso Scoprire la verità Sotto Le varie maschere Perché non sono Solo in questa sezione Le maschere Ce ne sono Ce ne sono C'è E Quindi Cioè ecco Tu l'hai collocata lì In quel particolare Luogo del libro Per un motivo particolare Per un motivo È un po' il cuore Del libro È un po' il cuore Del libro Un po' perché Il segreto di Pulcinella Appunto È È sempre Un punto interrogativo Quindi In realtà Rientra Sempre nel discorso Del disorientamento E quindi Sì La ricerca Della verità La verità Ma Quella fine Non la Non la Ciufferemo mai Questa verità Quindi Si rimane sempre Smarriti Quindi funziona Un pochino Come diciamo Il cuore del libro In cui Magari si concentra Un messaggio Che può aiutare A leggere il resto Il libro No Non per forza Non direi Però È un passaggio Sicuramente Di Secondo me Di Ampio respiro Fuori dal Fuori dalla memoria Ecco È più Verso Verso Il mondo Un mondo Quasi un perno Quasi un perno Del libro Sì sì Ok Io Non lo so Se il pubblico Se Lucianna O Anna Rita Vogliono fare Delle domande Io Rimetto Devo dire Che sei molto bravo Anche Per il discorso Della rima Che tu dici Perché non è facile Stilisticamente Collocarla Senza Finire Un elezioso Oppure Quindi Hai detto bene Che la rima Oggi Non viene Non viene usata Oppure Com'è che l'hai definito Un grande male Da parte dei poeti Per cui Però effettivamente Sei molto bravo Sai Che Chiaramente Mi era accorta Che gli universi Rimavano Però Non vi avevo dato Questo peso Dopo che hai parlato Della rima Mi sono Rifotografate Alcuni testi Dal cellulare E ho detto Aspetta Queste cose Rimano tanto E non si sentono Forse Cioè Nel senso Non mi accorgo Non mi fa Quella pesantezza Come in Sei bravo In questo Perché non è facile Dialogare con la tradizione Senza Senza scimmiottare La tradizione Vuol dire Essere anche Talentuosi Ecco Volevo dire questo Ci sono Anna Rita Diciana Posso Posso intervenire Grazie Grazie Laura Chiedo scusa Ho problemi Con Con il video Per cui Perdonate Non È solo questo Perdonate Grazie Grazie Buonasera Stefano Stefano Mi è piaciuto Moltissimo Questo tuo andare Intorno al tema Del viaggio E alla riattualizzazione Del tema Del viaggio Che veramente È una matrice Nostra Mediterranea Volevo Però Chiederti Una cosa Proprio In maniera Specifica Sul rapporto Tuo Rapporto Di scrittura Rapporto Intellettuale Ma rapporto Anche legato Alle origini Rispetto Alla scrittura Di Pinto E quindi Questa dimensione Molto ma molto Importante Su questa Taranto Industriale Che in realtà È una Taranto In connessione Con dei luoghi Importantissimi Del meridione Come Napoli A Grigento L'altra L'altra Italcidere Insomma Ecco E questo Mi interessa Molto Questo Perché Pinto Non è che sia Stata una Una persona Così Molto ma Molto Conosciuta Tu ne hai fatto Un lavoro Veramente Bello Filologico Insomma Ecco Intorno a Pinto Vorrei che tu Parlassi di questo Un attimo Grazie Grazie Stefano Grazie mille Anarita Per questa Per questa Domanda E per Insomma Aver Citato Pinto Che è un autore A cui A cui Tengo Chiaramente Essendome Occupato Recentemente Con questa Curatela Allora Pinto è stato Innanzitutto Una scoperta Perché È un autore Era un autore Mi auguro Pressoché Sconosciuto Se non appunto In Puglia O comunque Nel sud Italia E Mi è capitato Per le mani Davvero per caso Il suo poemetto Diciamo Il suo libro Più Più Importante Secondo me Più Più maturo Che è La terra di ferro Appunto Che è un poemetto Pasquale Pinto Era un poeta Viene definito Poeta Operaio Però È una categoria Che li sta un po' stretta Perché Diciamo Non è solo Un poeta Operaio È stato un poeta Che ha lavorato All'interno Dell'Italcider Di Taranto E quindi Ha raccontato Primo Forse Tra Tra tutti Quella realtà Da un punto di vista Interno Quindi dal punto di vista Dell'operaio E Pinto è Un poeta Importantissimo Soprattutto Rispetto a questo Discorso Di cui Diceva Anarita Della Taranto Industriale Perché Pinto vive Un momento Di passaggio Diciamo Epocale Per il sud Italia Se voi leggete La prima produzione Di Pinto In fondo Ad ogni specchio Il capo Sull'agave Le prime raccolte Diciamo C'è Una linea Meridionale Quindi Immaginate Le classiche Immagini I topoi Della letteratura Meridionale Il mare Il pescatore I gabbiani Eccetera A un certo punto Adesso sto Un po' Diciamo Semplificando Ma c'è molto di più A un certo punto Però Pinto Entra A lavorare In fabbrica Quindi arriva Little Cedar A Taranto Nel 1964 E Nel 1992 Quindi dopo Un po' di anni Pinto pubblica Questa raccolta La terra di ferro In cui Tutte quelle immagini Lì Non ci sono più Ma vengono sostituite Da colate di ghisa Cattedrale di ferro Morti sul lavoro Operai C'è tantissimo sangue C'è tantissima violenza All'interno di 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 questo poemetto E quindi per noi È Un autore fondamentale Proprio perché Registra Questo passaggio Da Una Taranto O comunque un sud Preindustriale Agricolo Fatto di artigiani Pescatori Eccetera O comunque Taranto era una città Militare A una città Invece Industriale E quindi L'arrivo Nel sud Del capitalismo Industriale Ed è affascinante Anche perché Diciamo Tutto questo Impinto Si traduce Anche come La perdita Di Un mondo Che Insomma Che Ha a che fare Anche con Quel Con quella cultura Magno greca Eccetera Che viene sostituita Dalla modernità Che arriva Nel sud Italia E questo è stata Per me Una lezione Fondamentale Anche per Il mio libro Dove c'è Appunto Questa Questa Nostalgia Per un mondo Perduto Perché Anch'io Ho vissuto Avendo vissuto A Taranto Ho visto Quali sono Gli effetti Di un certo tipo Di modernità Che ci è stato Ci è stato Offerto Una modernità Ammalata Perché appunto Quella La fabbrica Siderurgica Che c'è a Taranto Sappiamo tutti Che è una fabbrica Altamente inquinante Che Che È problematica Perché appunto Uccide Le persone E quindi Conosco Ecco Il prezzo Che Il sud Che Taranto Ha dovuto pagare Per Avere Quella Modernità Lì E quindi Nel mio libro Cerco anche Di raccontare Un mondo Che Si sta Perdendo Non solo Diciamo Perché Adesso Oggi Qual è La nuova Proposta Della Modernità Soprattutto in Puglia Noi lo vediamo Ogni giorno È la turistificazione Quindi La mercificazione Dei luoghi Tutto è marketing No Quindi È la perdita Di quella Di quella Identità Culturale Di quella Particolarità Di questi Di questi Luoghi Che viene Ormai Sempre più Omologata I luoghi Diventano Sempre più Uguali Per Per fornire Ecco Per essere Per essere Bene di consumo Per chi va A visitare Questi luoghi E quindi Anche in questo In me E nel libro C'è questo senso Di perdita Di un certo Di una Di una Di una Di una Di una Fabbrica Quindi il doppio Viaggio Questa dimensione Dell'andare Ma questa dimensione Anche della domanda E della riflessione Sui mutamenti Dei processi Di umanizzazione E di umanità Dello stare All'interno Dell'umanità Questo volevo E questo Mi interessava Tanto Perché poi Quando parliamo Di sud Insomma C'è questa dimensione Anche quello Che ci lasciamo Ma come la modernità Attraversa i processi Ripeto Di umanizzazione Grazie 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 E per aggiungere Volevo dire Che questo Di cui ha parlato Adesso Della Appunto Della Cambiamento Di poesia Dipinto Dalla Dalla poesia Di tipo Mediterraneo Appunto La poesia Delle cattedrali Di acciaio C'è un film Del 1933 Di Ruthman Che è acciaio Appunto La stessa cosa Solo che In Umbria E anche lì Ci sono queste immagini Del mondo Bucolico Insomma Dell'Umbria Che conosciamo tutti Bellissimo E poi Appunto Questi incidenti Questa gente Che muore Sotto L'acciaio Eccetera Quindi Mi sembra quasi E questa Te la volevo fare Sai questa domanda Perché Perché mi sembra quasi Che nella tua poesia Ecco adesso Non è che magari Tu facessi Pinto Magari sì Diretto riferimento Appunto A questo film Ma che ci sia Un'idea Del tempo ciclico No Perché Ulisse Non è L'Ulisse Di Quattromila anni fa Ma è E l'Ulisse Assolutamente Assolutamente Magari del tempo Ma magari Non le ritornano Nello spazio Ecco questo Magari ce lo dici tu Faccio fatica Sinceramente A rispondere In questo senso Perché Ripeto Quando si ha a che fare Con la nostalgia Come dicevo prima Si ripropone Si inventa Un mondo nuovo E quindi Sicuramente si pesca Nella memoria Senza ombre Di dubbio Ma appunto Sicuramente Ecco A me Interessava In tutto questo Sempre Avere Si ecco Un piede nel presente Sicuramente Volgendo Lo sguardo Verso Verso Il passato Ma appunto Inevitabilmente Proprio per il discorso Che facevo prima Della nostalgia Anche verso Verso il futuro E quindi si Probabilmente C'è una ciclicità All'interno Di ogni testo Si ripropone Quasi Un microcosmo In questo senso In cui C'è Un viaggio Che Prova a tenere Le redini Sia del presente Del passato Proiettandosi Anche verso Il futuro Pensavo Rispetto Insomma A questo discorso Dell'acciaio Del dipinto Eccetera Che C'è un'unica poesia In questo libro Che fa riferimento Esplicitamente Alla Alla Fabbrica E si chiama Portineria D Se volete La lezco Sì grazie Portineria D Persi tra le cime Degli olivi Gli uomini Alle portinerie A polmoni pieni Per tutto quello Che poteva venire Dovevano restare muti Dentro un'idea pura Una vita Dietro l'altra Pensavano di sentire Dentro la notte Il mare Mughiare Nei magazzini Il nero mare Limpido Sognato Dai ragazzini E quindi Sì Anche qui C'è questo C'è questo Dissidio Tra La modernità Nel dover andare In fabbrica In questo luogo Alienante E Infernale Mentre appunto Ci si proietta Verso L'idea del mare Sognato dai ragazzini Verso Le cime Degli olivi Eccetera Quindi anche un paesaggio Velenoso C'è questa poesia Paesaggi A pagina 60 Anche qui ci sono Restano Lamiere Sgretolate Di Eternit Fuochi di giornali Pubblicitari Sul cartello Vietato l'ingresso Qualcuno Vi ha scritto Appresso Alla città Sì Anche qui Perché appunto Anche i cittadini Stessi Ormai stanno In tutte le città Un po' D'Italia Del mondo I cittadini Sono sempre meno Cittadini Delle proprie città Ma sempre più Posti ai margini Delle città Perché Le città Sono Luoghi Che ormai Devono essere Pronti Per essere Consumati Per essere Attraversati Da gente Un po' Mordi E fuggi E quindi Le città Muoiono Fondamentalmente Si Tutta Tutta Appunto Io spesso In questi testi Un luogo Che Che a me Carissimo E che avevo Sempre in mente E da cui sono nate Tantissimi Tantissimi testi Soprattutto Della prima sezione E la città Vecchia Di Taranto Che Che è il centro storico Però in realtà È uno ancora Dei luoghi Realmente Autentici Forse In Puglia Perché ancora Non è stato Completamente Preso D'assalto Dal Dal turismo Quindi Ancora Si può Rintracciare Quella 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 Sapienza Del vicolo Quella comunità Quel mutualismo Tra la gente Insomma Dimensioni Che oggi Diventano Sempre più rare E che creano Quello smarrimento Quello smarrimento Quello disorientamento Di cui parlavamo All'inizio del libro E anche qui Ritornando Ecco Questa Mi viene in mente Una poesia Qui Su questi paesaggi Di Pavese Che si chiamava Città e Campagna In cui lui Descrive Appunto Come La campagna Non è più campagna Ma diventa Una propaggine Della città Un prolungamento Dove Chi fa il pendolare Perché La nuova Diciamo così La nuova Stamento Di quei tempi Dell'Italia Del nord Che si stava industrializzando E' proprio il pendolarismo Da nuovissimo C'è C'è un aspetto Interessante Rispetto Anche a Pinto Eccetera Nel sud Italia Nelle città industrializzate Non c'è La vera Diciamo Figura Del metalmeccanico Della classe operaia Famosa Come ad esempio Penso alla classe operaia Torinese Eccetera Ma al sud Si è sviluppato Il metalmezzadro Cioè questo personaggio Che Lavora in fabbrica Però Quando finisce Il suo turno Comunque Ha il suo Appezzamento Di terra E per cui Torna a casa E continua A lavorare La terra E questa Questa dimensione Diciamo Binaria Fa sì Fa sì anche Che L'operaio Non sviluppi Una vera Propria Coscienza Di classe Perché Non ha mai Abbandonato In realtà Quel mondo Da cui Proveniva E quindi E quindi C'è sempre Questa scissione All'interno All'interno Anche Del Forse Di Chi vive Quei luoghi In cui La modernità Non è mai riuscita Veramente Ad attecchire Al cento per cento Questo è un aspetto Molto Interessante Molto diverso Molto nuovo Dipinto Hai detto Sì Io Lo tiro fuori In realtà Il metalmezzadro Ne parla Walter Tobagi Quando parla Di Taranto In un articolo Io Ripropongo Questa figura Anche per Pinto Perché Pinto Parla In In alcune In alcuni versi In alcune strofe Di questo Della terra di ferro Parla di questi Operai Che vengono Dalle campagne Che comunque Mantengono Sempre uno sguardo Verso i canneti Verso Verso la campagna C'è sempre Questa proiezione Verso Verso il passato Perché è molto Affascinante Pensi che sia Una realtà Pugliese Questa Proprio di Taranto No no Io credo L'operario del sud Forse dell'Italia Meridionale Allora Sì Sicuramente Il metalmezzatro Ha molto a che fare Con Con il sud Però Ecco Questa dimensione Oggi Parlare di sud Come luogo Geografico È estremamente Difficile Perché Il sud È un'entità Ormai Liquida Nel senso Che siamo Siamo Davvero C'è una diaspora No Siamo in tutto il mondo E quindi Anche il sud Si è Si è contaminato E ha contaminato Quindi È sempre difficile Parlare di sud Come Puglia Campania Sempre più difficile Nel senso che ormai Non è più solo quello Il sud È qualcosa di più Più ampio Davvero Che Guarda il Mediterraneo Ma anche All'Europa E quindi Tant'è vero Che io ad esempio Ho vissuto Ho vissuto a Ferrara Per dire In Emilia Romagna E il Il delta del Po Il Il ferrarese È tutta una zona In cui Ritrovavo tantissime cose In comune Con Con i miei luoghi No Anche Il sapere Dei pescatori Insomma Questa Questa anche Difficoltà E questa lontananza Tra campagna e città Insomma Il sud È Qualcosa di Che ha sempre a che fare Poi con Soprattutto ecco Quando Nel mio libro Ad esempio C'è il mare Molto spesso Il mare Chiaramente È sempre qualcosa Franco Cassano Diceva che è una parete Sfondata Che ti proietta Sempre verso Qualcosa Di nuovo Ma E soprattutto È l'esperienza Anche del Al contrario Cioè È anche l'esperienza Del limite Perché è anche un confine Il mare E quindi Secondo me Il sud In questo senso Che si proietta Verso il Mediterraneo Che comunque È un mare chiuso Eccetera Ha sempre Diciamo Consentito A chi ci vivesse Di vivere Questa doppia Dimensione Che ha a che fare Con Che poi si rispecchia Con il passato Il presente Il futuro Ma anche con L'andare Restare Il muoversi In questo senso Quindi Insomma Non so se ho reso L'idea Insomma Ma È qualcosa Di molto Ascolta Noi andremo Verso Il finale Credo Cosa dice Cosa dice Rossella Io volevo dire Prima Hai una domanda Laura Ho una domanda secca Con una risposta secca Spero Ti definiresti Un poeta del paesaggio Visto che Hai messo Zanzotto Poi insomma Ho avuto molto Il discorso del sud Oppure No E se sì Perché Allora Sì Nel senso Che Per questo libro I luoghi Sono stati Fondamentali Cioè C'è proprio Il luogo È stato Il punto Di partenza Per il futuro Non ne ho idea Nel senso Che le cose Che sto scrivendo Nuove Vanno In un'altra direzione Ok Quindi stai lavorando A qualcosa di nuovo Sì Ma siamo proprio Ci vorranno Altri dieci anni Credo Va bene così Stefano Che libro Consiglieresti A parte il tuo Di leggere Cosa Cosa ti piace In poesia Della poesia Contemporanea Italiana O non solo Cosa Cosa hai Sul comodino Eh Bella domanda Guarda In questo momento Ho Il libro Di Dal Bianco Appena uscito Ma Sto leggendo Adesso E poi Ecco Vedi poi Ho i classici Che sono La Rosselli Quindi Si torna Sempre indietro Devo dire Che In realtà Io Si leggo Poesia Contemporanea Però Leggo Molto Più Ecco I poeti Un po' I classici Se vogliamo E non solo Insomma Comunque Passo più tempo Con i morti Che con i vivi In questo senso Io dico sempre Molti amici Fare i poeti morti Cioè C'è una bella amicizia Che dura nel tempo Ecco Allora Intanto voglio Far rivedere Scusa Io volevo solo Far rivedere il libro Sì Il libro Teniamolo qua Partire da qua Uscito per interno Poesia Tutta un'altra cosa Che leggerlo Sul Sul pdf No E veramente Proprio Te lo Te lo gusti Te lo Diventa un oggetto No Da tenere Ecco E niente Poi il nostro Prossimo appuntamento Sarà Mi pare Il 24 maggio Maggio Con Luciana Argentino Che è collegata Sono molto contenta Una bellissima voce Da nostra poesia Stefano Se hai voglia Torni e senti Luciana Luciana ti ha ascoltato Questa sera Volentieri Dico soltanto questo Per rispondere alla tua domanda Laura E la chiudo Consigliare un libro Consiglio questo libro Di Giuseppe Goffredo Che è un poeta Di Alberobello Che ha appena pubblicato Un libro Che si chiama Cadere nutre la terra È una sua Diciamo E per cosa è uscito Le sue poesie Per cosa è uscito La casinina Si chiama Poesis Ce lo consigli Un grandissimo poeta Dimmi una voce femminile Però della poesia del sud Dai dimmi una voce femminile Contemporanea Eh sì Tutti uomini Parli P Tutti uomini Dammi una voce femminile Dai Facciamo un po' Un equality gender Ce ne sono molte realtà Di contemporanee Penso a Se penso alla mia città Penso a Maravenuto Penso a Per fortuna Sono in gran compagnia A Taranto Ma poi anche Insomma In Puglia Penso Ad altre Giovani Giovani autrici Come Serena Mansueto Giune Scialpi Insomma Ce ne sono Ce ne sono Quindi sta messa bene La Puglia Come a livello di poesia Insomma Sta bene Ma secondo me siamo In Italia in generale In Italia Ma poesia va bene Le nuove Le nuove generazioni Stanno Stanno scrivendo Le cose Interessanti Va bene Allora direi che questo è il momento Della lettura finale Laura Che dici Sì Io volevo ringraziarti Adesso poi non ti interrompiamo più Per questo bell'incontro Dai Tutto sommato È stato veramente A parte qualche Puglia tecnica all'inizio È andato benissimo E quindi ti ringrazio Della Della tua condivisione E anche delle Della pacatezza Che hai Nel raccontare le cose Che è coinvolgente Grazie Ti ascoltiamo Nella lettura finale Grazie Rossella Grazie alle persone Che sono intervenute Ricordiamo che la puntata Poi rimarrà È sulla Pagina Facebook Verrà curata A modo Ecco Quindi Poi Poi facciamo il saluto finale Alla fine Ah ok Sentiamo Stefano Un attimo Dal vagone Salgono uomini Dagli occhi spiniti Dal vagone Salgono uomini dagli occhi sfiniti E leggono e dormono Abbracciati al sedile Non abbiamo malinconia Ma c'è il tramestio Delle rotaie E lo spazio Della pianura Nel vetro Una luce azzurra Dalla costa Al viso Un pane Senza sapore All'improvviso È questa smorfia Che fai Una disputa Che mina Che tutto frana Nel silenzio Ad avvelenare L'aria Nel vagone Pensi Non basterà Un viaggio Per raggiungerli Spiarli Dai vetri Infranti Pizzicarsi Il mento Un gesto D'affetto Mentre guardi Il vento Ingrossare Saperli Camminare Rasente Il mare Va bene Adesso il mondo È fermo Il treno In corsa Liquida Le forme In un luogo alieno Ma qualcuno È sfuggito Sulle labbra Come Le punte Degli scogli Segnino Un confine In un luogo L'argomento L'argomento In un luogo In un luogo